Oh, non ve lo ripeto più, eh? La vita non è perfetta. Le vite nei film sono perfette. Siete su Radio King, da Reggio. Solo musica buona, solo la musica che ci pare. Se l'FM è vuota, basta. Un trasmettitore da due libri. Un mixerino, un microfono... Rasta calmo, Bruno, che sennò ti parto un embolo. Bonanza non è aria, eh? Oh, atleti! Adesso andate fuori, fate in modo di non farmi tirare dentro al guinders della vergogna. Se è questa andiamo benissimo, eh? Ecco. Testa dentro che qua fuori è un brutto mondo. Ti presento Radio Raptus. All'epoca le radio in FM si contavano sulle dita di una mano. Qui al borgo che si faceva le pere aveva nome, cognome e soprannome. A proposito, a casa tutto bene? Perché? Le girano delle voci, non so. Saranno le solite voci idioti. No, adesso mi dici che voci girano. Buonasera. Entri, fai come cazzo ti pare che l'hai presa per un albergo. Beh, te per un bordello. Forse ti ho trovato una casa. Ciccio, la radio nobbi. Potevi essere maniaco di Franco Boglio, di pesci gattoli, che cazzo ne so. Ho lasciato mio padre. Ho fatto bene. Quelli come te, l'unica cosa che fanno al mondo è dire agli altri come dovrebbero starci. POMPE FUNEBRI CATELLANE Il vostro ultimo viaggio nelle migliori mani. Signor Ruini, me li fa passare Pink Floyd? Si dicono un sacco di stronzate sull'eroina. Oh freccia, che cazzo fai? Vuol dire che ne vuoi sempre di più? Più te ne fai, più te ne serve. Si dice che non c'è niente di peggio che perdere la testa per chi non la perde per te. E' lo stomaco che si spaccava il cuore a mille. Questa radio non chiude per via dei soldi, almeno non solo. Questa radio chiude perché è ora. Siete sull'unica radio della storia che chiude un minuto prima di compiere 18 anni. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei ritti di Kate Richards.